Ecco, 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 ecco. Oh, Bartolini, dov'è Bartolini? Ma tutta quanta la serata che ci stanno in prossima? Esatto. Sì. Un piccifischio finale del match di Michele Polaroa e... beh, con Gesù, quel voglio cosa fa. Aiutis è la prima società in Italia che inaugura uno stadio di comunità. È nostro! E tra l'altro è una cosa che oggi, 8 settembre di 2011, ha deciso di aver una volta svolta per la Juventus ma direi per tutto il coach italiano perché possiamo dire che da oggi in Italia, con il suo stadio, cambia il modo di concepire in campo. Buongiorno, sicuramente, è verissimo, amici, è dal 1996 e la Juventus ha iniziato ad immaginare il suo lavoro. Sono scorsi diversi e oggi siamo dentro di una volta finita e realizzata per poterlo, per la storia naturalmente, Eccolo! E' quella che è benvenza. Quindi, davvero, si può entrare in campo da gioco insieme ai giocatori e ne avremo la prova nel corso di questa serata. Allora, abiteremo compagnia, sino alla...